Siamo con Pasquale D'Urso, allenatore della Vultur, domenica scorsa in quel di Tolve, vittoria di misura per i bianconeri che consolida il secondo posto in classifica. Un commento sulla prestazione della squadra domenica scorsa? La partita a Tolve è stata una partita difficile, è stata una partita che sapevamo di giocare gran parte delle nostre possibilità di restare aggrappati a questa classifica, ma soprattutto la stessa consapevolezza di saper ritrovare un avversario che aveva dalla sua il fatto di dover giocare anch'essa possibilità importanti per essere aggrappati alla zona playoff. Per cui è stata una partita delicata, una partita che però con la giusta attenzione, con il giusto piglio, con la voglia di arrivare fino in fondo ha soddisfatto quello che noi volevamo, cioè i tre punti contro un avversario e soprattutto su un campo sul cui il campo non aveva avuto possibilità nessuno fino ad oggi di uscire con il risultato pieno. Questo ci dà maggiore forza, maggiore voglia di continuare su questa strada. È chiaro, a prescindere da come è maturato il risultato, perché l'abbiamo legittimato verso il finire della partita, però abbiamo avuto occasioni importanti durante almeno 2-3 che ricordo, senza mai rischiare nulla in un campo difficilissimo come quello di Tolve. al netto di un paio di tiri da 40 metri che non puoi togliere all'avversario, ma non sono mai stati pericolosi. Questo va detto e va dato atto alla squadra di aver dimostrato grande compattezza. La vittoria a Tolve è coincisa con il ritorno al gol del bomber Salvatore Brindisi dopo qualche turno di astinenza. Quanto è importante questo giocatore per la squadra? Salvatore è un grande professionista e lo sta dimostrando in ogni allenamento come del resto anche i restanti compagni di squadra. Lui è importante nel nostro sistema come lo sono al pari anche gli altri compagni di squadra. È chiaro che a prescindere dal fatto che un attaccante magari deve fare gol, deve essere naturale e terminale offensivo della squadra, la nostra ha anche la possibilità come squadra e come organizzazione e come filosofia di portare un po' tutti sotto porta, sotto rete la testimonianza del fatto che ogni gara almeno 4-5 volte in maniera diversa e con diversi interpreti riusciamo ad arrivarci. Poi Salvatore come tutti gli attaccanti che abbiamo è chiaro che fanno del loro credo anche la possibilità di finalizzare il nostro gioco. La squadra gioca per loro, loro sono a disposizione della squadra, questo è importantissimo. domenica prossima arriva fra due giorni al Corona, arriva il Pisticci Marconia e poi sabato 31 c'è la tanto attesa finale di Coppa Italia regionale a potenza contro il Pomarico. Come vi apprestate a vivere questa settimana che è sicuramente una settimana di fuoco? Noi ce ne stiamo accorgendo onestamente anche perché ci troviamo ad arrivare sul campo in condizioni di fresco invernale, per cui magari questo fuoco che gli dice ci serve per riscaldare le nostre giornate quotidiane sul campo, ma a prescindere da questo lo viviamo come abbiamo sempre fatto finora, pensiamo, pensiamo, siamo concentrati ad allenarci, a dare il massimo sugli obiettivi della singola seduta, poi dopo è chiaro che siamo concentratissimi oggi come domani e magari domenica all'avversario prossimo che è il Pisticci, che dobbiamo cercare con il massimo perché sono quelle partite così difficili e complicate al tempo stesso che sono quelle che mi preoccupano e ci preoccupano e ci devono preoccupare un po' di più perché quando sembra che magari possa essere la partita più normale, lì ci può essere insidia di chi magari può sottovalutare per un attimo l'avversario, un episodio, una singola palla, questo noi non lo possiamo assolutamente permettere, è ragione per cui siamo attentissimi rispettando rispettando il Pisticci ma siamo caricatissimi per cercare di, soprattutto ci siamo preparati per vincerla questa partita. Poi da domenica sera penseremo, solo da domenica sera penseremo a prepararci per la finale di Coppa Italia. Infine un messaggio per il popolo sportivo rionerese che vi seguirà in gran numero in queste due partite così come ha fatto fin qui dall'inizio del campionato. Ma sì, io colgo l'occasione per ringraziare tutta la comunità sportiva, i tifosi organizzati, i tifosi meno organizzati, tutti coloro i quali tengono a cuore le sorti del nostro cammino. Io penso che fin qui è stato pieno di entusiasmo da parte nostra, credo che l'abbiamo trasmesso e credo che l'entusiasmo ci è stato ritornato almeno con la stessa intensità. Per cui va bene così, andiamo avanti così, un grande scambio di rispetto, un grande scambio di emozioni, va bene, è un connubio che può essere importante di qui alla fine. Per cui, ripeto, colgo l'occasione non solo a nome mio ma a nome della società, dei ragazzi, del gruppo, della squadra, di tutti per ringraziare veramente questi straordinari ragazzi, tifosi e tutti coloro i quali hanno simpatia per le cose che stiamo facendo. Siamo con Rocco Lamorte, centrocampista rionerese doc, uno dei pilastri di questa squadra. Una squadra che sta andando davvero forte al di sopra di ogni aspettativa. Domenica la vittoria a Tolve è stata davvero importante. Un commento sulla partita? La partita di domenica scorsa è stata una partita molto difficile. Come hai detto tu prima, siamo stati in grado di portare il risultato, i tre punti a casa, soffrendo, ma alla fine l'abbiamo spuntata e questo è il piglio giusto per il proseguire del nostro campionato. Domenica sarà un'altra battaglia e speriamo di portare i tre punti a casa, che è l'unico nostro obiettivo. Alla finale di Coppa Italia manca davvero poco, soltanto otto giorni. Con quale spirito vi apprestate ad affrontare questa sfida? Allora, come ha detto Pocanzi, pensiamo soprattutto prima domenica e poi da lunedì penseremo a questa sfida molto importante. Sicuramente come stiamo facendo, dando il 110% soprattutto domenica, ripeto, e poi sabato faremo ugualmente. In rappresentanza di tutti i calciatori della Vulture, chi vi sentite di ringraziare maggiormente per questi traguardi importanti che la squadra sta raggiungendo? Soprattutto dobbiamo ringraziare il nostro staff, il Ministro, tutti quelli che ci stanno vicino, ma un applauso lo faccio soprattutto ai nostri diffusi che ci hanno sempre eseguiti, ma purtroppo con le trasferte vietate non possono dare più il loro apporto, però noi siamo vicini ugualmente. Ci dispiace per quello che è successo, per le cose che sono accadute, ma noi possiamo solo dare tutto nel campo e ripagare la fiducia di tutti. Luigi Pietragalla, capitano della Vulture, sempre tra i migliori in campo, così come è stato anche domenica scorsa nella trasferta di Tolve, da cui la Vulture è tornata con un'importante vittoria. Un commento sulla prestazione della sfida a Tolve? Sapevamo di incontrare una squadra organizzata, una squadra che nel mese di dicembre si è rinforzata, ha preso tre giocatori, uno per reparto, però noi sappiamo la nostra forza qual è, sappiamo di scendere in campo ogni domenica con tanta umiltà e come sempre il lavoro paga, quindi abbiamo trovato una squadra, come ho già detto, organizzata, tosta, difficile da affrontare, che in casa non aveva mai perso fino a domenica, però ci abbiamo creduto, la nostra forza è proprio quella che noi ci crediamo sempre fino alla fine, fino al novantesimo, fino a che l'arbitro non ci manda negli spogliatuvi, infatti il gol l'abbiamo fatto un minuto dalla fine. Domenica arriva il Pisticci, Marconi è qui a Rio Nero, un incontro sulla carta tutto sommato abbordabile, poi però dopo sei giorni c'è la tanto attesa finale di Coppa Italia, come vi apprestate a vivere queste due sfide importantissime? Sicuramente il pensiero della Coppa in testa nostra c'è già da un mese a questa parte, è proprio perché non si sapeva la data quando fosse, quindi il pensiero c'è, però noi non dobbiamo sbagliare nessuna partita, nessuna partita è facile, soprattutto domenica con il Pisticci, una squadra che non ha nulla da perdere, viene qua per giocare la sua partita, per fare punti, visto che comunque è da parecchio che non fa punti e comunque vuole salvarsi, ha quattro persone squalificate, quindi le persone che andranno in campo sicuramente daranno di più rispetto a quelli che non ci saranno, quindi dobbiamo entrare con la giusta concentrazione, vincere la partita perché altrimenti quello che abbiamo fatto a Tolve viene meno e poi da lunedì ovviamente pensare a questa finale che ci siamo meritati, però senza troppe pressioni perché non dobbiamo arrivare all'appuntamento con troppa tensione addosso, con la giusta tensione fa bene. Un'ultima domanda, un messaggio per i tifosi? Il messaggio che, l'appello che facciamo noi tutti, io da capitano e tutta la squadra, anche perché ne parliamo nello spogliatoio, è che comunque noi siamo solidali a tutti coloro che purtroppo sono stati colpevolizzati di qualcosa che magari non hanno fatto, qualcuno forse ha sbagliato, però purtroppo questa è la giustizia, deve fare il suo corso e speriamo che comunque sia noi ci aspettiamo un Viviani stracolmo proprio per dimostrare che la tifoseria nostra è una tifoseria che vuole fare solamente le cose per bene e non quello che vogliono far sembrare gli altri. Per come è stata dipinta è un po' brutto, visto che comunque tifoserie come quella di Rio Nero nei campi regionali e forse anche oltre non ce ne sono. Ciao!